Riflettori puntati sul calciomercato nel campionato di Serie D. Ancora riconfermi a Barletta, dopo vice-dominica Fagna e soprattutto Pignataro, i biancorossi hanno accolto nuovamente Rocco Tucci, Marco Milella, Giuseppe Telira e Vito Lavopa, con quest'ultimo che nello scacchiere di mister Farina potrebbe essere schierato in più ruoli. Non solo dunque largo sulla fascia, ma all'occorrenza mezzala in un centrocampo a tre. Giorni caldi anche per l'arrivo di Andrea Petta, il difensore richiesto sia in Serie D che in Serie C dovrebbe incontrare proprio in queste ore la dirigenza del Barletta. Il Casarano invece continua a pescare dal Taranto. Dopo Marsili e Manuel Cannavaro, il DS Montervino ha messo nel mirino Andrea Saraniti. Per l'attaccante, ormai prossimo alla recessione, c'è da battere la concorrenza di Potenza, Brindisi, Catania e Trapani. Prosegue intanto anche la campagna acquisti del Bitonto. Molto attivo il direttore sportivo Leonardo Rubini. Gli arrivi di Giuseppe Chiaradia, Pierluigi Riccio, Francesco Losavio, Alessandro Guarnaccia, Carlo Clemente e Francesco Muscatiello sono pienamente in linea con gli obiettivi stagionali. Il Bitonto, che cercherà quanto prima di toccare la quota salvezza, non ha nessuna pretesa di alta classifica, ma riparte da una buona base. Novità infine ad Altamura. Vito Lacassia, reduce dall'esperienza al Bitonto, e Roberto Farinola, vestiranno la maglia biancorossa. Grazie a tutti.